cari gemelli 5 giorni di luna a favore lunedì martedì mercoledì sabato e domenica quindi la creatività le intuizioni felici anche la forza interiore per affrontare un po tutto questo ciclone di impegni anche di minuzi e di impiccetti che vengono paventati dai pianeti nella vostra sesta casa astrologica che per l'appunto la casa della quotidianità li avrete voi sarete in grado di sbrigare qualsiasi tabella di marcia anche in modo accurato quindi l'improvvisazione non sarà molto nelle vostre corde molto più peculiare sarà il metodo che voi adotterete nel lavoro questioni vostre private in casa nei rapporti con gli altri questo è un bene perché comunque è così che bisogna fare in questo momento visti i pianeti quindi la settimana va bene certo le soddisfazioni super principesche non ci sono ancora però insomma va bene il lavoro va bene l'amore va bene la formicazione soprattutto quest'ultima